Io sarò molto sintetica. Mario Draghi è un grande uomo italiano e quindi noi da italiani, io in particolare poi, io sono anche in qualche modo un po' coinvolta perché Draghi passa il tempo libero dagli impegni naturalmente che sono molti di cui si occupa in Umbria per cui, che dire, penso che potrebbe essere la persona giusta ma non spetta a me e vedremo naturalmente poi che cosa accadrà.